Ciao a tutti, premi per un minuto questo punto sotto il naso e vedi cosa succede. Allora, il punto va premuto in questo modo, puoi farlo con l'indice o col pollice, non va esercitato una forte pressione, è molto meglio chiudere gli occhi e agire in questo modo, un minuto circa è il tempo, per contare un minuto con gli occhi chiusi puoi contare 20 respiri, un respiro completo profondo diciamo dura circa 3 secondi per cui 20 respiri fanno un minuto e si vanno a sbloccare tutta una serie di energie, infatti in questo punto noi sappiamo che da un punto di vista energetico ci sono tre canali, il canale principale che passa diciamo nella nostra colonna vertebrale, però ci sono tutti riflessi nella parte anteriore, quindi un flusso di energia che passa in questo senso e poi però sempre nel nostro punto ci sono due flussi di energia che passano dalle narici, quindi la base del naso fondamentalmente è diciamo un punto di incontro tra i canali laterali, i canali energetici laterali che rappresentano l'energia maschile, l'energia femminile e l'energia di vita, l'energia centrale, quindi andando ad esercitare una pressione in questo punto si vanno a sbloccare diciamo queste tre energie che spesso sono bloccate proprio in questo punto, quindi si rivitalizzano tutti i processi vitali, i processi vitali ad esempio si può aumentare il metabolismo per cui dà un beneficio proprio a livello energetico diciamo così, consumiamo più energie e quindi il nostro fisico può assumere una forma migliore, possiamo entrare proprio in forma per chi fa attività fisica, attività sportiva è molto utile e inoltre si liberano diciamo così le energie maschili e l'energia femminile e quindi anche la nostra vitalità diciamo da un punto di vista erotico, da un punto di vista sessuale può riprendere vigore insomma quindi sia per il maschio sia per la femmina perché è proprio l'unione dell'energia maschile dell'energia femminile, quindi ci possiamo mettere anche in questa posizione appoggiando il gomito qua e chiudere gli occhi e contare 20 respiri, 20 respiri completi e andiamo avanti così e vedremo una rivitalizzazione completa delle nostre energie se proprio si sente proprio, va fatto ovviamente tutti i giorni, tutti i giorni va fatto assieme all'altro punto che ho fatto vedere nell'altro video, si può fare diciamo una al mattino e una alla sera ad esempio, è importante farlo questo tra l'altro anche qua si può fare la variante braccio destro o braccio sinistro se si utilizza il braccio destro si tenderanno a rivitalizzare soprattutto le energie maschili quindi le energie maschili sono le energie, la forza di volontà quindi qua non c'entra essere uomo o donna, l'energia maschile rappresenta la volontà e l'energia femminile rappresenta il sogno, la capacità di vivere i sogni quindi l'energia maschile è la capacità decisionale di prendere decisioni l'energia maschile e femminile è la capacità di conquistare quindi si rivitalizzano anche la conquista e la capacità decisionale insomma quindi questo è un punto molto importante quindi fatto almeno una volta al giorno per un certo numero di, per un po' di tempo perché anche il metabolismo per rivitalizzarlo serve molto tempo ma è molto molto efficace bene per questo video è tutto scrivi qua sotto i commenti perché mi interessa sapere l'esperienza che hai di questo sistema iscriviti al canale, metti un like e condividilo con i tuoi amici ciao